Jack e Jill salivano alla fonte d'acqua fresca ma rotolando cadderò e Jack batte la testa lui si rialtò e disse a Jill tendendole la mano pulisci Tino sei ferito a prender l'acqua andiamo e Jack e Jill tornarono sul monte a prender l'acqua portandola alla mamma che li accolse soddisfatta poi Jack andò di corsa per le scale dalla nonna che gli bendò il pernocolo con carta, aceto e panna entrò poi Jill e rise per la testa impiastricciata prendendosi però così una bella sculacciata grazie a tutti grazie a tutti